Una regina tutto cuore acciuffa il pareggio all'Euganeo di Padova, gli amaranto di Gagliardi e Zanin ne sono vivi e nonostante una classifica che emette i brividi continuano a dimostrare di volere lottare e non arrendersi fino alla fine. E' stata una gara vibrante e per nulla noiosa quella disputata domenica mattina in posticipo, una regina guardinga e concentrata tiene bene il campo nella prima mezz'ora dimostrandosi anche pericolosa in attacco con il trio veloce di Michele Dumitru Fischnaller. A proposito di attacco però ancora una volta Federico Gerardi, unico centravanti vero nella rosa amaranto, resta fuori dall'undici titolare con questa scelta sicuramente dovuta ad aspetti extra tecnici. La regina calcio ha a nostro avviso rinunciato a diversi punti in quanto Gerardi quando è stato utilizzato ha dimostrato una capacità realizzativa davvero importante e nella volata salvezza poteva essere a dir poco determinante. Ma tant'è, come dicevamo a Padova un inizio molto attento della formazione calabrese, consapevole che vincere all'Euganio è forse l'ultima spiaggia per non sprofondare il Lega Pro. Anche per il Padova è fondamentale acquisire tre punti per esperare nello spareggio salvezza. La regina tiene bene ma quando il Padova verticalizza il dovere per uomini come Rocchi ed Improta fa tremare i polsi ai tifosi amaranto e l'azione del vantaggio veneto lo dimostra. Melchiorri sfonda a destra, apparecchia perfettamente per Improta che di destro spiazza Pigliacelli e l'1-0. La regina non si disunisce e si propone in fase offensiva. Dalla mediana parte un lancio suppiazzato per Lucioni ma lo stesso Melchiorri senza guardare il pallone si scaraventa sulla difensora amaranto non consentendogli di arrivare sulla sfera. Pinzani non transige e decreta la massima punizione. Nonostante le proteste venete e il mucchio selvaggio in aria, Davide Di Michele è freddo e spiazza a Mazzoni, irascibile portiere bianco-rosso che meritava l'espulsione in più occasioni. Uno a uno all'intervallo, ripresa con lo stesso copione, prima fase di studio e il Padova preme ma la regina rintuzza bene. Al 62esimo il secondo buco, stavolta clamoroso, della difesa amaranto frutta il raddoppio veneto e Rocchi a sfruttare il rinvio corto e l'ingenuità dei centrali amaranto. Non trova nessuno di fronte ad ostacolarlo e l'esperto ex laziale non perdona il bravo Pigliacelli. Ma la regina di domenica, ora anche con Gerardi in campo, è indomita e trova la forza di pareggere al 77esimo quando adesio di destro indovina l'unico angolo possibile, risolvendo una mischia in aria bianco-rossa. Nel finale provano a vincere entrambe in quanto il pari non serve a nessuna, ma rischiano di più gli amaranto che perdono Bambù per un rosso forse esagerato e per una traversa piena di Rocchi, la cui bordata di sinistro non avrebbe lasciato scampo a Pigliacelli. Lo stesso Pigliacelli è decisivo in un altro intervento. Alla fine 2-2 il Padova rimane terzultimo, la regina penultima. Giovedì un'altra impresa ardua attende gli amaranto. La squadra di Gagliardi e Zenil sarà di scena a Palermo. Giovedì un'altra indagativa. Grazie a tutti.